L'anno scorso hanno reagito, in maniera che poi il sindaco precisa era meglio, un contributo importante e quindi si andava ad aggiungere al primo piano piano la nostra idea che avevamo da tempo a preso corpo. Insieme con questi altri enti e altri benefattori che ci hanno aiutato. E mi piace ricordare la fondazione Annalise Gallegani che ha allestito completamente insieme con un progetto che è durato negli anni la mensa che poi dopo vedrete hanno scelto noi come partner e questo gemellaggio è durato e ha portato a un altro tassello ancora importante. Altro tassello importante è la prologo di Chiesina.